Arrestato dai carabinieri un cittadino cinquantenne di Futani che li avrebbe aggrediti armati di coltello, il soggetto artigiano sarebbe già conosciuto le forze dell'ordine per diversi precedenti. Ancora non chiara le motivazioni che hanno portato i carabinieri del posto presso il domicilio del signore, ma ciò a cui hanno assistito alcuni concittadini è apparso ben chiaro. Le forze dell'ordine sarebbero state minacciate ed aggredite dall'uomo armato di un lungo coltello. Immediatamente nella piccola comunità di Futani si è creato scompiglio ed indignazione e anche se l'uomo ed i suoi trascorsi sono conosciuti, episodi di simile aggressività non erano mai accaduti. Ancora non si conoscono le motivazioni della presenza dei carabinieri sul posto, ieri mattina forse intervenuti solo per un controllo, ma quel che è certo è che appena giunti al domicilio del cinquantenne si sono trovati di fronte un uomo esagitato, pare per niente collaborativo, anzi alla vista dell'auto delle forze dell'ordine ha impugnato un coltello e ha cominciato a minacciare i militari. Questi dapprima hanno cercato di tranquillizzare l'uomo per farlo desistere dall'atteggiamento aggressivo e oltraggioso, poi dopo averlo disarmato hanno proceduto all'arresto. La dinamica di quanto accaduto non è ancora ben chiara.